Cosa vi aspettate da questa serata? Da questa serata io mi aspetto il divertimento, sempre divertimento soltanto Invece da questo festival? Io non ti rispondo Da questo festival aspettiamo soltanto Mario Biondi, siamo a favore suo, ci piace tanto L'esclusione di Monte dall'isola, i famosi, vuoi dirci qualcosa? Non è più il mio fidanzato quindi che parlasse chi deve parlare, che devo dire? Un saluto a Cosi Pignosa